Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è infatti atteso traffico in costante aumento nella settimana di ferragosto. Viabilità Italia prevede Bollino Nero in particolare nella mattinata di sabato 10 agosto e Bollino Rosso nella giornata di domenica 11 agosto, spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di Stato. Per consentire la fluidità del traffico, Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri sino al 3 settembre, sospesi in 906 il 70% di quelli precedentemente attivi. Il divieto di transito ai veicoli pesanti è in vigore poi sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22. E proprio nelle giornate da Bollino Rosso e Nero, nei tratti Aretinia 1 e 45 della Perugia Bettolle, verranno dislocate ambulanze supporto 118 per facilitare i soccorsi e proteggere le persone intrappolate nelle code, un piano operativo messo a punto dal gruppo Maxi Emergenze dell'Asla Toscana Sud-Est. Risposta in minor tempo che viene garantita avvicinando questi mezzi ai caselli autostradali anche in caso di microtamponamenti che spesso si verificano a causa dell'incidente principale. Oltre che a garantire un soccorso in tempi rapidi, garantisce anche una risoluzione dell'evento incidentale in un minor tempo. Quindi fa in modo che le code non incrementino ulteriormente, quindi a facilitare anche il defluire dei mezzi bloccati.